Un robusto e vasto campo anticiclonico insiste sul vaccino del mediterraneo centro-occidentale, assicurando condizioni stabili e in prevalenza soleggiate. In Toscana lunedì 23 maggio, sereno poco nuvoloso per velature, venti deboli moderati di scirocco sulla costa, da ovest a sud-ovest nell'interno, mari poco mossi o localmente mossi, temperature massime in ulteriore lieve aumento fino a 30-32 gradi nell'interno, su valori decisamente superiori alle medie del periodo. Su territorio provinciale, sereno o poco nuvoloso, localmente velato in serata, a Lucche sulla Piana temperatura minima 13, massima 29 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 13, massima 26, a Biareggio sul litorale minima 16, massima 25 gradi. Martedì da poco a parzialmente nuvoloso, per nubi in prevalenza medio-alte a tratti consistenti.